L'Italia ha completato il mio addestramento, mantenendo la sua promessa. Finalmente potrò reclamare il mio debito di sangue. L'isola di Britannia, quel fetido cubo ai confini dell'impero, padre di quelle carogne che hanno massacrato la mia famiglia e fomentato la ribellione sfociata nelle strade di Roma. Il mio ufficio nella quattordicesima ci ha condotti a queste isole. Domando quest'insurrezione. Legionari, pronti allo sbarco! La terraferma e un pasto caldo ci attendono! Marinai, pronti ad attraccare! CENTURIONE! Stanno alzando le catene! Toccherando l'accesso! La forza tra i mei neppetti! E' il nostro centurione! Toccherando le catene! Toccherando le catene! Grazie a tutti. 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 Buon sasso. E lui ci riuscirà il pene. Grazie a tutti. 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 E dove sono? Non ti fuggi alla fronte, eh? Vai dai! Vai dai! Vai dai! Vai dai! Ando vai dai! Va, sì! Sì, sì, sì! Oh, però non mi dovete arrivare così che non vedo! Viva dai, viva! Stia! Ok ragà, ci vuole un po', ma dopo che riesce a capire il gioco diventa... non dico semplice, però... riesce a capire bene i movimenti da sti da cliccare. Vai vai! C'è terminati qui! Un attimo, vedo un po' cosa abbiamo da potenziale. 44.000. Crei la salute così ce l'abbiamo. Penultime due tacche. Io vorrei fare... Vabbè, la furia no. Questo è buono, questo è abbastanza buono. E poi... Questo non lo so veramente... Ah! Proviamo, proviamo, dentro. Quase... Toast. Let's go! Madonna, la salute è al massimo, credo, eh! C'è, dovrebbe essere venuto, però... Cos'è? Oh! Morto, morto, morto! Dove essere morto! Dobbiamo ripiegare! Abbiamo un punto di raduno! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. No, non devi ciappare le crèche. Sì, che non do il segnale! Ma è vero! Strunz! Ma dove? Quello non li posso prendere, no? Che, amai, rotta con un livello Test? Vi è volto, non tiisco! музыca, è uno che andalosius. Buddha. Si è vero che ha un sterile ha visto. Quasi, sono, mi organisationi che è fatto a cinchese. VarTT! sesame,amam 돌�iti. ensenemente niente degli ultimi anticipating- per forearmare progressista. Per arrivare il sogno. Pazzesco! Veramente pazzesco! Andiamo alla torre andiamo 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 andiamo! Eh si precisamente ho detto una cosa giusta! Sali! Perfetto! Scigli arcieri! Quelli dici? Cos'è? Cos'ho fatto? E' venuto per bloccare le frecce! Ma bellissimo! Vai! Con gli scudi! Sto gioco c'ha tutto! E' che un assetto così dovevo le dannate? Alzare gli scudi! Fermi! Fermi! Arrendetevi! Rimpiegare! Rimpiegare! Torfazione! Faremo a pezzi quella torte sopra te! Coraggio! Let's go! Non so! Non so! Non so! Non so! Uomini! Alzate tutti al peso! Io sarei che sbloccare il catenaccio! Non so! Non so! Sali! Sali! Non so! Non so! Non so! Non so! Non so! benedizia non vorrei scapparla però vai 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 buttalo giù buttalo giù va bene ma ma ok perfec perfec questa la rossa la rossa la rossa la rossa Non è vero, non è vero. La linea è resta! La linea è resta! La linea è resta! Blocchiamo la catena! Fermiamolo! Cosa è? Argeni! Vieni! 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 Sento capirare! Vieni! Hidrati! Prendiamoci un po' di dita, giusto per... Va via, va... Oh, è mo' l'ho preso, che c***o... Non so cosa devo prendere, è vero, ragazzi, ma sono scordato le dimulsioni, è vero... C'è le gambe di spiaggione che sono tutte belle, ovviamente... Però... Andiamo a vedere, andiamo a vedere giusto ora... Allora, minca, quanto costano... Mh... Allora... Ehm... Cavafuria... Prendiamone un po'... Ehm... Chi è? Vai... Danni... Pure... Ah, ma aumentano i danni pure, non ho capito... Vabbè, queste cose che abbiamo tutte, ok... Ehm... Vediamo come prendere, come nemmeno di prendere queste... Visto che uso di più... Diciamo, una roba che uso di più... E... Down... Prendiamoci le patch... Quello che sono... Ok, filmatino tattico... Ok, vi è un fatto... Ok... 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 Ecco... Ok... Ok... Comeoplanciardo con adesso... Come, ora... Come forci... Ok, ora... attenzione soldati l'imbavido assaggia la morte una volta i codardi altremile ora abbiamo versato il sangue dei balli e sangue proprio come noi forza con me la 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 la